Cristiano nei panni di Claudio, qual è il tuo ruolo? Cosa interpreti? Allora, io interpreto questo personaggio che appunto inizia un percorso di transizione, di cambiamento e non si riconosce più in quel corpo, quindi poi affronterà questo viaggio, non si vede però a Casablanca dove insomma era rischiosissimo negli anni 70. Quindi un ruolo nuovo, anche per me strano, difficile non tanto per la recitazione, in cui alla fine non è così complicato nel senso io ho recitato rapporti che c'erano, cresce questa bella amicizia con Andrea Pennacchi che passa poi tramite gli scacchi, quindi è una cosa molto delicata e carina. Poi la difficoltà, insomma, gli indumenti, quella con la stretta, il tacco che non sapevo come fare poi, nel modo che non so se ho fatto bene, poi lo vedrete. Lo giudicheremo. Come hai approcciato il linguaggio veneto? No, io non l'ho fatto in veneto, se vedete io sono abbastanza in italiano, io l'ho chiesto al regista ho detto ma lo faccio anche in veneto? Ho detto no, 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 guarda tu fallo pulito. Invece dove gli altri hanno fatto un lavoro pazzesco sul veneto, mi dispiace non averlo fatto. però poi Luca mi ha detto no, no, guarda, non mi interessa questo, preferisco che tu faccia pulito in italiano. Cosa ci fanno due cassaporti nel deserto? Uh, che combinazione cosa? E come è stata l'esperienza a noi? È difficile, mi sembra molto più semplice, a casa ti sembra tutto divertente così, da dentro è un po' più complicato, però ci siamo divertiti, poi avevo un gruppo, devo dire, mi hanno aiutato tantissimo, anche perché ero l'unico non comico. Quindi potresti pensare a un ruolo da comico per un altro film? Da comico comico no, una commedia così con delle cose simpatiche, sì, di comico, l'altro fanno meglio. Grazie. No, a te, a te.